Isola, striscia fa irruzione in studio, Nino e Bianca giungono in finalissima Nel corso della finale dellIsola dei famosi 2018, Valerio Staffelli irrompe in studio, ma arriva la risposta di Alessia Marcuzzi. . Nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2018 è stata trasmessa su Canale 5 l'attesa puntata finale DL Cancelletto Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Cancelletto Alessia Marcuzzi che ha visto Nino Formicola battere la bella Bianca Azzei ed aggiudicarsi il monte premi finale del programma targato Mediaset. Ecco cosa è accaduto nel corso della finale del reality show honduregno targato Mediaset. Striscia la notizia si becca i bu del pubblico in studio, Alessia Marcuzzi sorvola con Savoir Faire. . Lo scorso lunedì sera è andata in onda la tredicesima diretta ufficiale del gioco dellIsola dei famosi, che ha visto i finalisti Jonathan Kascianian, a Maurice Perez, Francesca Cipriani, Bianca Azzei e Nino Formicola godersi la finale del celebre reality show made in Honduras. Nel corso della diretta finale dellIsola 13, l'inviato speciale di Cancelletto striscia la notizia, Valerio Staffelli ha inaspettatamente fatto irruzione nello studio del noto format di Canale 5, dichiarando alla bella conduttrice Alessia Marcuzzi, vi abbiamo portato l'ennesimo tapiro d'oro, con tutto quello che è successo all'isola, lei si merita l'ennesimo tapiro. . Alle parole di Staffelli in diretta televisiva, la spumeggiante conduttrice non ha esitato a controbattere, va bene, lo prendo. Non mi lasciate stare neanche durante la finale. Ad un certo punto vi devo confessare che non vi ho più visto. . Il pubblico veramente sta fischiando te, ha dichiarato la pinella e i microfoni dell'inviato del tg satirico, il quale ha rilanciato in diretta l'affaire Francesco Monte, il naufrago ritirato dall'isola, dopo aver ricevuto l'accusa di aver consumato marijuana in Honduras. . . . . . . . .